Un presidio sanitario di prossimità da realizzare a Fiumicino che si ponga a un livello intermedio tra l'assistenza ambulatoriale e quella ospedaliera è la richiesta che Cittadinanza Attiva, l'Associazione per i diritti del malato e dei consumatori, ha avanzato alle istituzioni alla ASL Roma 3 nel corso di un incontro pubblico che si è tenuto a Villa Guglielmi. Questo tipo di modello, spiegano i promotori, che hanno costituito un comitato, rappresenta il potenziamento dell'offerta delle cure primarie per riequilibrare il rapporto ospedale-territorio in termini di appropriatezza e di efficienza assistenziale. La struttura, che in altre esperienze simili viene gestita generalmente dai medici di medicina generale, è rivolta in particolare ai pazienti cronici e non autosufficienti che necessitano di cure ad alta intensità infermieristico-riabilitativa. Potrebbe ridurre i ricoveri ospedalieri e le giornate di degenza inappropriate, assicura il comitato, supportando gli esiti terapeutici e il recupero dell'autonomia dei pazienti dopo un'evenienza acuta. Al momento Fiumicino è sprovvista di un presidio sanitario residenziale che offra servizi assistenziali, dunque l'ospedale di prossimità potrebbe dare una risposta a tutte quelle persone che attualmente sono costrette a rivolgersi ad altre strutture.